Arriva finalmente a conclusione la carella sulle luci d'artista che ha visto contrapposti per settimane il comune di Salerno alla Camera di Commercio, oltretto del contendere il finanziamento alle installazioni luminose dell'amministrazione di Luca, ad annunciarlo il presidente dell'ente di via Roma Arzano che in occasione di un incontro sull'internazionalizzazione delle imprese ha voluto chiarire la vicenda mettendo la parola fine alle discussioni. Oggi la Giunta e mercoledì il Consiglio daranno il via libera all'assestamento di bilancio definendo uno schema relativo ai finanziamenti natalizi in tutto 600.000 euro. Noi stiamo rispettando estremamente la tempistica che avevamo marcato. L'anno scorso siamo andati al 14 dicembre, oggi io credo di essere in condizioni entro il 30 novembre di far deliberare il Consiglio sull'assestamento. Oggi la Giunta avvererà lo schema di assestamento nel quale sono previste, è bene che sia io a questo punto a dirlo perché ci sono vocili, corridoi, le mura che prevedono per tutte le manifestazioni di fine anno 300.000 da assegnare al comune capoluogo e 300.000 invece da utilizzare per tutte le altre richieste di altri comuni della provincia. Ovviamente questo lo schema potrebbe non essere approvato, ma non sarebbe colpa mia. Però ovviamente questo lo dico perché ho letto una notizia di stampa stamattina, non mi sembra corretto che qualcuno per strade di corridoio venga informato e tutto il resto della stampa no. Quindi lo dico ufficialmente, questa è la proposta che la Giunta oggi approverà, il 30 il Consiglio probabilmente approverà questo schema di assestamento.